Un fine settimana all'insegna della solidarietà e della sana pratica sportiva in Val d'Ambra, l'Atletica Sestini Fiamme Verdi, che da alcuni anni opera nel settore giovanile e anche nella località di Buccine, organizzerà nell'ambito della 41esima Sagra della Trota un weekend dedicato al podismo per una buona causa. Sabato prossimo 12 maggio, quinta Strabucine Night Run, gara podistica in circuito in stile Urban Trail, attraverso gli ostici vicoli del paese dalle 17 alle 23 aperta agli atleti di tutelità. Domenica 13, con partenza alle 10, il grande appuntamento solidale in collaborazione con We Love Insulina Team, che da anni porta avanti con orgoglio e di corsa la maglia con il cuore, sensibilizzando giovani adulti alla conoscenza e alla diagnosi precoce del diabete mellito di tipo 1. Riconoscerlo salva la vita. L'evento si chiama Corri con il cuore, una manifestazione non competitiva aperta a tutti su percorsi di 5 e 10 chilometri, da interpretare correndo o camminando tra le campagne circostanti, il capoluogo Valdambrino. Incasso e offerte saranno devolute alla Fondazione Ospedaliera Mayer di Firenze, in particolare al reparto di diabetologia. E l'auspicio è che la partecipazione sia massiccia.